Il convegno è proprio un convegno sulla disabilità che vedrà un incontro tra famiglie, istituzioni e alcuni ordini professionali come quello degli infermieri e degli psicologi. Sarà preseduto proprio dalla psicologa dottoressa Claudia Tripi che è anche il vicepresidente nazionale dell'associazione Una lotta per la vita. E questo convegno vuole proprio porre l'attenzione su quello che è il problema della disabilità e delle famiglie che sono vittime di mala sanità. Per cui il convegno la mattina a cui seguirà poi l'evento in serata nascono proprio da parte dell'associazione Una lotta per la vita per sensibilizzare su questo argomento, su questo tema. Quindi in mattinata modererò il convegno e ricordiamo che ci sarà la presenza delle istituzioni di assessori del consigliere comunale Giulio Cusumano che è anche presidente onorario di Una lotta per la vita. Ma poi in serata avremo appunto un evento, un evento spettacolo, però non dimentichiamo che anche se si tratta di spettacolo tutto nasce per aiutare Giulia Montera e tutte le famiglie vittime di mala sanità. Per cui poi in serata presenterò con Alex Borghini. Noi ci prodigheremo per presentare questa kermesse di artisti. Saremo io, Alex Borghini e l'avvocato Antonella Giotti che è sempre accanto a me. Gli artisti, alcuni, quelli che ricordo perché sono davvero tanti, i falsi d'autore, Nino Abba Cuccio, la testimonial della serata, Irene Cittarella e poi naturalmente, do un'occhiata anche al foglio, i Badabum. Non mancherà lo spazio riservato al musical dell'Accademia Siciliana, di musical dedicato alla famiglia. Vi aspettiamo dall'evento in poi alla Sala di Seta, ai Cantieri Culturali e alla Zisa.